Capitolo 38 La pioggia Due solitari si incontrano. Erano suonate le cinque, e c'era da aspettarsi che spuntasse un'alba a tinte grigie e cinere. La temperatura dell'aria cambiò, e malmano si alzarono venti abbastanza forti. Intorno al viso di Oak cominciarono a volteggiare mulinelli impalpabili di brezze più fresche. Il vento girò ancora di un grado o due, e rinforzò. Nell'arco di dieci minuti sembrò che tutti i venti del cielo se ne fuggissero lontano. Qualcuna delle protezioni di paglia e stoppie che riparavano le biche del grano fu scaraventata ad altezze incredibili a mulinare superaria, e bisogna sostituirla e fermarla con certe travi pesanti trovate di vicino. Quando ebbe finito, Oak si rimise a sgobbare all'orzo. Goccioloni di pioggia gli percuotevano il viso, il vento rugiva dappertutto e in ogni canto, gli alberi venivano squassati fino alla base del tronco, e i rami cozzavano l'un contro l'altro in una contesa senza fine. Palmo dopo palmo, riuscì a proteggere sempre meglio dalla rovina quella sciagurata incarnazione di settecento sterline ficcandoci dentro a forza dei pali, dovunque e in qualunque modo. La pioggia si era fatta battente, e ben presto Oak sentì giù per la schiena l'acqua che si tracciava da sé dei sentieri gelidi e viscidi. Alla fine si trovò tutto zuppo, quasi come una spugna, e la tinta dei suoi vestiti grondanti formò una pozza ai piedi della scala. La pioggia colpiva di traverso l'aria cupa e buia con i suoi liquidi aculei, che venivano giù senza sosta dalle nuvole in cui erano nati, puntando dritti su di lui. A Oak valzò in mente che otto mesi prima aveva dovuto combattere contro il fuoco proprio nello stesso posto, con la stessa frenesia con cui combatteva ora contro l'acqua, tutto per l'inutile amore verso la stessa donna. Quanto a lei, no, nessun giudizio, perché Oak era generoso e fedele. Erano circa le sette di quella buia, plumbe a mattina, quando scese dall'ultima bica ed esclamò sollevato «E' fatta!» Era fradicio, stanco e triste, eppure non tanto triste quanto fradicio e stanco, perché era entusiasmato dalla consapevolezza di aver vinto una buona causa. Dal granaio arrivava qualche suono soffocato e Gabriel gettò un'occhiata da quella parte. Dai portelloni cominciavano a emergere delle figure da sole o a coppie e tutte procedevano goffe e abbacchiate salvo la prima che indossava una giubba rossa e avanzava con le mani in tasca fischiettando. Gli altri arrancavano faticosamente con l'aria di chiale a coscienza sporca. Tutta la processione non era granché diversa dal gruppo dei pretendenti di Fluxman barcollanti verso le regioni infernali sotto la guida di Mercurio. Quelle figure tutte incurvate fecero ritorno al villaggio mentre Troy loro condottiero entrava nella fattoria. Non uno che girasse la faccia verso le biche o che avesse rivolto uno straccio di pensiero al loro stato. Ben presto anche Oak se ne tornò a casa prendendo però una via diversa dagli altri. Davanti a sé contro la lucida superficie bagnata del viottolo vede qualcuno che sotto un ombrello camminava a passi più lenti dei suoi. L'uomo si girò e trasalì palesemente. Era Baldwin. Come state stamani, signore? chiese Oak. È una giornata umida. Ah, sto bene. Benissimo, grazie. Abbastanza bene. Sono lieto di sentirvelo dire, signore. Sembrava che Boldwood si andasse risvegliando e si rimettesse in sesto pian piano. Avete l'aria stanca e abbattuta, Oak disse poi buttando lì un'occhiata al suo interlocutore. Sono stanco. Voi avete un'aria stranamente alterata, signore. Io? Ma no, nemmeno per sogno. Sto abbastanza bene. Cosa ve l'ha messo in testa? Mi sembrava che non l'aveste l'aria di essere in gamba come al solito. Ecco tutto. Allora vi sbagliate di grosso, disse Boldwood tagliando corto. A me niente mi ferisce. Ho una costituzione di ferro. Io ho lavorato duro per coprire le nostre biche e ho fatto appena in tempo. Non ho mai fatto in vita mia una fatica come questa. Naturalmente le vostre sono già in salvo, signore. Ah, sì. E Boldwood poi aggiunse dopo una breve pausa. Cosa vi avete chiesto, Hawk? Le vostre biche erano già coperte prima che scoppiasse il temporale. No. Nemmeno quelle più grandi? Quelle sui bancali di pietra? No, neanche quelle. E quelle sotto la siepe? No. Mi sono dimenticato di chiamare l'impagliatore di tetti perché se ne occupasse. Nemmeno quella piccola vicino alle scalette. Nemmeno quella piccola vicino alle scalette. Quest'anno le biche me le sono dimenticate. Ma allora alla rilevazione non ci arriva neanche un decimo del vostro grano, signor Boldwood. Già, può darsi. Dimenticate, ripete Gabriel lentamente tra sé. È difficile descrivere l'effetto profondamente drammatico che ebbe adesso su Hawk questa affermazione. Tutta la notte aveva avuto la sensazione che la negligenza per cui stava sgobbando, dannandosi per porvi riparo, era un fatto anomalo e isolato. l'unico esempio del genere in tutto il territorio della contea. E invece, proprio in quel momento nella sua stessa parrocchia si era verificato uno spreco ancora maggiore senza né rimpianti né rimorsi. Solo pochi mesi prima l'idea che Boldwood potesse trascurare le proprie responsabilità di imprenditore sarebbe stata un'idea altrettanto assurda quanto quella di un marinaio che si dimenticasse di stare su una nave. Hawk stava appunto pensando che per quanto lui avesse certo sofferto per il matrimonio di Bathsheba lì davanti c'era un uomo che ne aveva sofferto anche di più quando Boldwood li parlò con un tono di voce diverso la voce di uno che ha una gran voglia di confidarsi e di alleggerirsi il cuore con uno sfogo. Hawk voi sapete quanto me che ultimamente le cose mi sono andate di traverso tanto vale che lo confessi stavo per dare un po' una sistemata alla mia vita ma in qualche modo il mio progetto è andato a monte io credevo che la mia padrona vi avrebbe sposato disse Gabriel che non aveva ben presenti le profondità abissali dell'amore di Boldwood tanto da evitare qualsiasi commento sul suo conto e badava solo a tenere sul proprio il massimo riserbo eppure a volte capita così ci aspettiamo tanto che accada qualcosa e invece non succede niente aggiunse con la calma dell'uomo che la sfortuna ha ferito ma non domato immagino di essere lo zimbello della parrocchia disse Boldwood come se l'argomento gli venisse irresistibilmente alle labbra e con una penosa disinvoltura con cui cercava di esprimere la sua presunta indifferenza oh no questo proprio no non credo ma la verità è che al contrario di come crede certa gente non c'è stato nessun tradimento da parte di lei non c'è mai stato nessun fidanzamento tra me e la signorina Everton la gente lo dice ma non è vero non mi ha mai promesso nulla Boldwood ora si fermò immobile e si girò verso Oak con uno sguardo stravolto oh Gabriel continuò io sono debole folle e non so cos'altro e non riesco a vincere questa mia miserabile angoscia avevo qualche barlume di fiducia nella misericordia divina finché non ho perduto quella donna sì egli aveva fatto crescere una zucca per darmi ombra e come il profeta l'avevo ringraziato ed ero felice ma il giorno dopo egli ha preparato un verme per attaccare la zucca e farla seccare e ora sento che è meglio morire che vivere restarono zitti tutti e due poi Boldwood si risvegliò da quel momentaneo slancio di confidenza in cui era scivolato e ricominciò a camminare ritrovando la sua solita riservatezza no Gabriel riprese con un'indifferenza che assomigliava quasi a un sorriso sulla faccia di un teschio c'è chi ne ha fatte di ben altre rispetto a quello che abbiamo fatto noi ogni tanto è vero provo un po' di rimpianto ma nessuna donna mi ha mai avuto a lungo il suo potere bene buona giornata ho piena fiducia in voi e sono sicuro che non rivelerete a nessuno quello che ci siamo detti qui oggi capitolo 39 tornando a casa un grido a circa 3 miglia da Custerbridge sulla strada doganale per Wedderbury c'è la collina di Yalbury una di quelle colline lunghe e scoscese disseminate lungo le strade maestre di questo panorama ondulato del Wessex meridionale quando tornano dal mercato di solito i contadini e tutti quelli che usano i calessini scendono appena comincia la salita e si mettono a camminare una sera di sabato del mese di ottobre il veicolo di Bathsheba stava arrancando lentamente su quella salita lei era abbandonata pigramente sul sedile posteriore del calesse mentre accanto a lei camminava un giovane di bell'aspetto e di portamento eretto vestito con abiti d'affittavolo in giorno di fiera ma di taglio insolitamente elegante anche se a piedi reggeva le redini e una frusta e ogni tanto sfiorava appena le orecchie del cavallo col cordino della frusta quasi per giocarellare quell'uomo era suo marito l'ex sergente Troi che riscattato il suo congedo col denaro di Baciba si andava man mano trasformando in un fittavolo ma di quelli spregiudicati e ultramoderni se lo incontrava la gente dalla testa durissima e inossidabile insisteva ancora a chiamarlo sergente il che in parte dipendeva dal fatto che aveva conservato i suoi baffi ben curati di quando era soldato nonché il portamento militaresco intrinseco alla sua natura e alla sua formazione si se non fosse stato per quella maledetta pioggia ne avrei fatte fuori duecento nette un giochetto da bambini amore mio andava dicendo non capisci che è stata quella dannata pioggia a scombinare tutto per dirla con un libro che ho letto una volta nella storia di questo paese il tempo piovoso è tutto il racconto e le belle giornate sono gli episodi di un po' non è vero ma questa stagione di tempo variabile è arrivata come sempre beh sì fatto sta che queste corse autunnali sono la rovina di tutti non avevo mai visto una giornata come quella è una radura selvaggia appena fuori Batmoth è una marea grigiastra ci si è rovesciata addosso una specie di tortura liquida vento e pioggia dio buono buio ma era nero come il mio cappello prima che cominciasse l'ultima corsa alle cinque già non si riusciva più a distinguere i cavalli finché non erano quasi all'arrivo figurati poi i colori il terreno era pesante come piombo e tutti i pronostici basati sull'esperienza non valevano un'acca cavalli spettatori fantini tutti erano sballottati da ogni parte come delle navi in alto mare tre delle tribune spazzate sotto sopra e quei poveracci sono venuti fuori dalla dentro a quattro zampe nel campo vicino c'era almeno una dozzina di cappelli volati via tutti insieme sì a una sessantina di yard e pimpernel era piazzata benissimo e quando ho visto pollice che avanzava accidente se me l'ha fatto martellare il cuore sì mi sbatteva contro le costole te l'assicuro amore con questo tu vuoi dirmi frank disse sconsolata baciba con una voce che si era appenosamente affievolita rispetto alla gioiosa pienezza dell'estate precedente che hai perso più di cento sterline in un mese con queste allucinanti corse di cavalli oh frank è davvero crudele da parte tua è insensato a sperperare il mio denaro in questa maniera ci toccherà lasciare la fattoria ecco come andremo a finire ma che scemenza che crudele è crudele eccotela da capo ricomincio la lavata di testa è proprio tipico di te ma mi prometti vero di non andare alla seconda tornata di corse di badmouth implorò lei baciba si sentiva traboccare le lacrime ma riuscì a frenarle non capisco perché non dovrei andarci anzi se fosse una bella giornata avevo pensato di portarci anche te mai mai e poi mai me ne scapperei per cento miglia dalla parte opposta mi è odioso anche il semplice suono di quella parola ma andare a vedere le corse o starsene a casa non c'entra non è questo il punto le scommesse sono registrate e messe sotto chiave ben prima che comincino le corse credimi che la corsa sia fortunata o meno non ha niente a che vedere con il fatto che andiamo o non andiamo a vederla lunedì prossimo non mi vorrei mica dire che hai rischiato qualcosa anche su questa sbottò lei con uno sguardo agonizzante eccoci di nuovo non farmi la scemetta aspetta e ascolta prima di parlare vedi baciba è perso tutto il figato e l'audacia che aveva una volta e parola mia se avessi saputo che pulcino bagnato c'era sotto tutta quella sfrontatezza non ti avrei mai so io cosa un lampo di sdegno balenò negli occhi scuri di baciba quando guardò dritto avanti a sé dopo questa risposta il viaggio proseguì senza più una parola mentre qualche foglia già così precocemente rinsecchita ogni tanto ruzzolava a terra dagli alberi che in quel punto si inarcavano a incappucciare la strada una donna comparve sulla collina la connetta in cui camminava era così infossata che era già vicinissima quando i due sposi la videro troi si era voltato verso il calesse per salirci sopra e proprio mentre mettevo un piede sul predellino la donna gli si avvicinò alle spalle sebbene i rami degli alberi creassero una fitta ombra e sebbene il crepuscolo stesse ormai calando baciba ci vedeva abbastanza per accorgersi dell'estrema povertà dei panni di quella donna e della tristezza di quel viso per favore signore sapete a che ora si chiude la union di Casterbridge la sera la donna rivolse questa domanda a Troy parlando del sopra della sua spalla Troy sobalzò visibilmente al suono di quella voce tuttavia parve riprendersi abbastanza evitando di cedere all'impulso di voltarsi di colpo per affrontarla lentamente rispose non lo so la donna al suono della sua voce alzò subito gli occhi guardò il suo profilo e riconobbe il soldato sotto le vesti del fattore sul suo viso si diffuse un'espressione che accomunava in sé a un tempo felicità e agonia dalla sua bocca uscì un grido isterico e cade a terra oh poveretta esclamò Baciba subito pronta a scendere rimani dove sei e bada al cavallo disse Troy gettandole perentoriamente redini e frusta continua il passo fino in cima a questa donna baderò io ma io mi hai sentito via poppet cavallo calesse e Baciba si mossero perché diamine sei venuta qui credevo che tu fossi miglia e miglia lontana o addirittura morta perché non mi hai iscritto disse Troy alla donna con una voce stranamente dolce ma insieme frettolosa mentre l'aiutava ad alzarsi avevo paura a farlo hai un po' di denaro niente santo cielo vorrei davvero potertene dare di più eccoti accidenti queste briciole sono i miei ultimi spiccioli ho soltanto quel che mi dà mia moglie sai e adesso non posso mica andare a chiederle soldi la donna non rispose nulla ho soltanto pochi istanti continuò Troy e ora ascolta dove vai stanotte alla union di casterbridge sì merlì che avevo pensato di andare non ci devi andare anzi no aspetta sì magari vacci per stanotte non posso fare di meglio dannazione dormi lì stanotte e stacci domani lunedì è il primo giorno libero che ho e lunedì mattina le dieci precise vieni a incontrarmi sul ponte grey appena fuori città porterò tutto il denaro che riesco ad arraffare non ti deve mancare nulla ci penso io Fanny poi ti troverò un alloggio da qualche parte arrivederci ad allora io sono una bestia sì ma arrivederci dopo essere arrivata fino in cima alla salita bacciba si girò all'indietro la donna era in piedi e bacciba la vide allontanarsi da Troy e continuare a scendere spossata giù per la collina passando appena oltre la terza pietra miliare per casterbridge poi Troy raggiunse la moglie montò sul calesse le tolse le redini dalle mani e senza fare nessun commento diede una frustata al cavallo per metterlo al trotto era piuttosto agitato sapevi chi era quella donna chiese bacciva scrutandolo in viso lo sapevo rispose lui fissandola spudoratamente negli occhi immaginavo che lo sapessi disse lei altezzosa e furente continuando a guardarlo chi è Troy evidentemente decise all'improvviso che la sincerità non avrebbe giovato a nessuna delle due donne non ha niente a che fare con noi due disse Troy la conosco di vista come si chiama perché dovrei sapere il suo nome io credo che tu lo sappia credi quello che ti pare e vatti a far il resto della frase fu completato con un'abile sferzata ai fianchi di Poppet che fece scattare in avanti l'animale e un'andatura frenetica nessuno aprì più bocca capitolo 40 sulla strada maestra per Casterbridge per parecchio tempo la donna continuò a camminare i suoi passi si facevano sempre più deboli e si sforzava gli occhi per scrutare lontano in fondo a quella strada nuda sempre più sfocata nella penombra della sera alla fine il suo passo si ridusse a un mero barcollare e allora aprì un cancello non appena scorsi un pagliaio si accucciò lì e subito si addormentò quando si svegliò fu per ritrovarsi nell'abisso di una notte senza luna né stelle una pesante ininterrotta cortina di nuvole si stendeva per tutta l'ampiezza del cielo chiudendone ogni squarcio e laggiù sopra la città di Casterbridge si scorgeva un alune luminoso che cozzava contro quella conca nera e la sua luminosità sembrava ancora più viva per il forte contrasto col buio in cui era immersa verso quel tenue dolce bagliore la donna volse lo sguardo se soltanto potessi arrivare laggiù disse incontrarlo dopo domani Dio mi aiuti chissà forse prima di allora sarò già nella tomba l'orologio di un palazzo battè l'ora luna con un tenue rintocco che bucava tutta la profondità delle tenebre dopo la mezzanotte la voce di un orologio sembrava perdere sia in ampiezza sia in durata e la sua sonorità si riduce a un flebile falsetto poi ecco che una luce due luci emersero laggiù dalle ombre e man mano diventarono più intense una carrozza rotolò lungo la strada e oltrepassò il cancello forse era tutta gente che si era trattenuta a cena fuori fino a tardi i bagliore di un fanale illuminarono per un istante la donna covacciata e misero in tutta evidenza i tratti del suo viso era un viso che aveva un disegno di fondo giovanile ma era vecchio nell'insieme i suoi lineamenti erano morbidi e infantili ma i tratti più belli avevano cominciato a diventare smagriti e smonti la viandante si alzò evidentemente con ritrovata fermezza e si guardò attorno la strada la strada sembrava familiare e arrancava lentamente scrutando attenta la siepe adesso comparve una confusa forma bianca era un'altra pietra miliare passò le dita sulla sua superficie per sentire il solco della scritta ancora due disse si appoggiò contro la pietra per concedersi qualche momento di riposo poi si riscosse di nuovo e riprese il cammino per un po' si resse eroicamente in piedi ma poi si accasciò come prima questa volta lì vicino c'era un appartato boschetto ceduo in cui i vari mucchietti di schieggie biancastre sparpagliate sul suolo ricoperto di foglie rivelavano che di giorno i boscaioli avevano tagliato fascine e pali per graticci non si sentiva nulla non c'era neanche un fruscio né una bava di vento né un minimo scricchiolio di rami che venisse a tenerle compagnia la donna dette uno sguardo al di là del cancelletto l'aprì ed entrò vicino all'entrata c'era una fila di fascine legate o sciolte insieme a pali di ogni dimensione per qualche secondo la viandante rimase ferma in quella fissità tesa che non significa la fine di un movimento ma soltanto la sua temporanea sospensione aveva una posa come di chi sta in ascolto forse del mondo esterno e dei suoi suoni oppure di un discorso immaginario fatto tutto in mente a guardar meglio si sarebbero visti degli indizi che questa seconda alternativa era quella giusta inoltre come si sarebbe visto in seguito stava attivando in un suo strano modo delle capacità creative sulle tracce del talento di quell'ingegnoso Jacques Idrose inventore di sorgati automatici per le membre umane con l'aiuto dell'allone di luce di Casterbridge e andando a tastoni con le mani la donina scelse due tronchetti e li prese dal mucchio erano abbastanza diritti fino all'altezza di tre o quattro piedi dove ognuno si biforcava come a formare la lettera Y si mise a sedere spezzò i ramoscelli minori e il resto se lo portò via con sé sulla strada si mise ognuna di quelle due forcelle sotto le braccia a modi grucce li provò vi appoggiò timidamente tutto il suo peso per scarso che fosse e facendo perno su di esse si dette uno slancio in avanti si era costruita da sé un efficace aiuto materiale le grucce rispondevano bene il picchiettio dei suoi piedi e i colpiti delle stampelle sulla strada erano ora gli unici suoni e provenivano dalla povera viandante aveva superato già da un pezzo l'ultima pietra miliare e scrutava ansiosamente la banchina laterale è come se contassi di vederne spuntare subito un'altra le grucce benché utilissime avevano i loro limiti di efficienza il congegno impotente com'è a sopprimere la fatica non fa che trasferirla e quindi la quantità originale di sforzo non era stata eliminata era solo stata trasferita al corpo e alle braccia esausta ogni slancio sulle grucce diventava sempre più debole alla fine vacillò di fianco e cadde a terra rimase lì mucchio in forme per dieci minuti e più il vento del mattino cominciò a mugire fastidioso sulle pianure e a rimestare le foglie morte rimaste immobili dal giorno prima la donna si girò disperatamente sulle ginocchia e si rialzò in piedi reggendosi con l'aiuto di una gruccia provò a fare un passo poi un altro poi un terzo utilizzando ora le grucce soltanto come bastoni da passeggio così andò avanti finché scendendo giù per la collina di Melstock non le apparve un'altra pietra miliare e subito dopo avvistò l'inizio di una ringhiera di ferro si trascinò fino al primo montante vi si aggrappò e si guardò intorno le luci di Casterbridge ora si riuscivano a vedere chiaramente una per una stava per albeggiare e c'era da sperare che anche se non proprio subito passasse qualche veicolo tese l'orecchio non si sentiva il minimo segno di vita salvo quell'apogeo quella sublimazione di tutti i suoni tristi che è la bagliare della volpe con quelle tre note cavernose lanciate a intervalli di un minuto con la precisione di una campana funebre meno di un miglio mormorò la donna no è di più aggiunse dopo una pausa è un miglio fino al municipio il mio rifugio è dall'altra parte di Casterbridge poco più di un miglio e ci sono dopo un po' parlo di nuovo cinque o sei passi ogni yarda forse sei debbo fare mille settecento yarda cento volte sei fa seicento diciassette volte tanto signore abbi pietà di me continuò ad avanzare aggrappandosi la ringhiera mettendoci sopra una mano poi appresso l'altra e poi ancora facendo forza su entrambe le mani per trascinarsi in avanti la donna non era incline ai soli loqui ma un sentimento portato all'eccesso infiacchisce la personalità dei deboli come potenza quella dei forti ripete di nuovo sullo stesso tono devo convincermi che il traguardo sta alla fine dei cinque montanti e non più così avrò la forza di arrivarci e che era un'applicazione pratica del principio che avere una fede più o meno simulata e fittizia è meglio che non averne nessuna andò avanti per cinque montanti e al quinto si fermò ne passerò altri cinque pensando che lì dove non vedo l'ora di arrivare è al prossimo quinto montante ci riuscirò ne passò altri cinque sta soltanto dopo altri cinque ne passò altri cinque ma ce ne mancano altri cinque ne passò a quel ponte di pietra il mio viaggio è finito disse quando fu in vista del ponte sul frum si trascinò fino al ponte durante lo sforzo ogni respiro della donna esalava nell'aria come se fosse l'ultimo ora diciamoci la verità disse sedendosi la verità è che mi rimane meno di mezzo miglio dato inganno su una cosa che aveva sempre saputo essere falsa le aveva dato la forza di proseguire per più di mezzo miglio una distanza che non sarebbe mai riuscita da affrontare tutto in blocco l'espediente dimostrava che la donna grazie a un misterioso intuito aveva afferrato la verità paradossale che la cicità può essere più forte della preveggenza e la miopia più efficace della presbiopia che per colpire nel segno insomma c'è bisogno dell'intraccio del limite e non di una visione ampia e a tutto campo adesso davanti a quella donna ammalata e sfinita restava quel mezzo miglio da coprire un impassibile caro di juggernaut un insensibile re del suo mondo la strada attraversava ora la brughiera di Jernover senza spallette e quindi aperta da entrambi i lati la donna fece scorrere lo sguardo su quello spazio così vasto sulle luci su se stessa sospirò e si stese appoggiandosi a un pilastro del ponte mai l'ingegnosità umana era stata adoperata con così tanta sofferenza come quella viandante usava adesso la propria ogni aiuto immaginabile ogni metodo ogni stratagemma ogni marchigegno con cui un essere umano potesse senza dare nell'occhio coprire quelle ultime disperate 800 yard furono tutti setacciati dalla sua mente instancabile e abbandonati come inattuabili pensò a bastoni a ruote a strisciare pensò persino a rotolarsi ma per questi ultimi due sistemi occorreva uno sforzo maggiore che per camminare eretta la sua facoltà creativa era esausta alla fine sopraggiunse la disperazione non ne posso più mormorò e chiuse gli occhi dalla striscia oscura sulla parte opposta del ponte parve staccarsi una chiazza d'ombra che si muoveva solitaria sul pallido biancore della strada scivolò senza fare alcun rumore verso la donna terra lei ebbe la sensazione che qualcosa le stesse toccando la mano era qualcosa di morbido e caldo aprì gli occhi e quell'essere le toccò il viso un cane le stava leccando la guancia era un'enorme ponderosa ed ocile creatura che si stagliava scura contro l'orizzonte basso alta almeno due piedi al di sopra dei suoi occhi se fosse di razza terra nova un mastino un segugio o qualcosa altro mai era impossibile dirlo sembrava di una natura troppo strana e misteriosa per appartenere a una qualsiasi delle razze che hanno uno dei soliti nomi e quindi dato che non era possibile assegnarlo a nessuna razza allora doveva essere per forza l'incarnazione ideale della grandezza canina una generalizzazione di ciò che è comune a tutte le razze in quella figura lei vedeva personificata la notte del suo aspetto malinconico solenne e benevolo non nella sua faccia occulta e crudele le tenebre dotano gli esseri umani piccoli e comuni di un potere poetico e perfino quella donna affranta lambita dal cane proiettò il suo pensiero in un'immagine dalla sua posizione riversa guardò in su verso l'animale proprio come un tempo quando poteva reggersi in piedi aveva guardato in su verso un uomo l'animale che come lei era un senza tetto appena la donna si mosse si ritirò rispettosamente di un passo o due e vedendo che non lo respingeva le lecò di nuovo la mano un pensiero le barinò come un lampo forse posso servirmi di lui forse allora ce la faccio indicò al cane la direzione di Casterbridge e sembrò che il cane capisse trottò un po' in avanti poi vedendo che lei non riusciva a seguirlo tornò indietro e guai la donna raggiunse l'estremo e più triste aspetto dei propri sforzi e quella propria ingegnosità quando ansimante riuscì a sollevarsi tutta incurvata mettendo le esili braccia sulla groppa del cane poi vi si appoggiò decisamente sussurrandoli delle parole di incoraggiamento mentre in cuor suo soffriva con la voce incoraggiava e se era strano vedere il più forte e incoraggiato dal più debole più strano ancora era il fatto che un essere così totalmente distrutto riuscisse a infondere così tanta fiducia il suo amico avanzò lentamente e lei a piccoli passetti si mosse accanto a lui con metà del proprio peso trasferito sull'animale a volte cadeva come era caduta quando camminava eretta o sostenuta dalle grucce o dalla ringhiera e allora quando cadeva il cane che ora aveva perfettamente capito il suo desiderio e la sua inabilità scalpitava di angoscia le tirava le vesti e correva avanti lei lo richiamava sempre e si poteva notare come la donna tendesse l'orecchio a suoni umani soltanto per evitarli era evidente che il suo obiettivo era quello di nascondere sia la sua presenza in quella strada sia il suo stato miserabile procedevano ovviamente con molta lentezza arrivarono giù in città e i lampioni di Casterbridge si spalancarono davanti a loro come pleia di cadute sulla terra non appena svoltarono a sinistra nell'ombra fitta di un viale di castagni deserto imboccato per scansare l'abitato oltrepassata la città raggiunsero la meta in quel luogo tanto agognato fuori città si ergeva un edificio pittoresco in origine era stato un semplice contenitore di gente il guscio era così esile così privo di orpelli superflui e rivestiva in maniera così ardente l'asilo offerto al suo interno che il triste carattere di quel che covava sotto trappelava all'esterno così come si intravede la forma di un cadavere sotto un sudario poi la natura quasi si fosse offesa ci aveva messo la mano grandi masse di edera erano cresciute a coprire interamente le mura tanto che il tutto aveva assunto l'aria di una abbazia e si era scoperto che la vista dalla parte frontale che spaziava sopra i cammini di casterbridge era una delle più meravigliose della contea un conte del vicinato aveva detto una volta che avrebbe volentieri rinunciato alle rendite di un anno per avere da casa sua la vista che potevano godere gli inquilini di quel posto e molto probabilmente quegli inquilini avrebbero rinunciato alla loro bella vista per la sua rendita di un anno questo edificio in pietra comprendeva una massa centrale e due ali sulle quali stavano come sentinelli alcuni esili camini che ora borbottavano malinconicamente nella pigra brezza nel muro c'era un portone e lì accanto un filo di ferro penzoloni per suonare il campanello la donna si sollevò sulle gambe più in alto che poté e riuscì a malapena ad afferrare la manopola la tirò e cadde chino in avanti la testa reclinata sul petto erano quasi le sei e si udivano rumori di gente in movimento all'interno di quell'edificio che rappresentava il porto il rifugio di quell'anima stanca accanto al portone grande c'era una porticina si aprì e apparve un uomo scorse quel mucchio di panni che ansimava tornò indietro a prendere una candela e riapparve rientrò una seconda volta e tornò poi fuori con due donne insieme alzarono allora quella figura prostrata e l'aiutarono a varcare la soglia quindi l'uomo chiuse la porta come ha fatto ad arrivare fin qui chiese una delle donne non lo sa dio disse l'altra donna c'è un cane là fuori mormorò la mia andante estenuata dove è andato mi ha aiutato lui l'ho scacciato con una sassata disse l'uomo poi la piccola processione avanzò con in testa l'uomo che reggeva la candela seguito dalle due donne ossute che sostenevano tra loro quella donnina soffice così entrarono in quella casa e scomparvero